Difficilmente ormai ci capita di ritrovare quei ritmi che il grande poeta Andrea Zanzotto chiama i ritmi, i bioritmi, ecco non si tornava, i bioritmi, vado a dire i ritmi che fulsano nell'universo intero. Io ho l'impressione che, è un vecchio discorso, stiamo usando male il nostro progresso. Lo usiamo male perché crediamo ancora, ormai sorge un dubbio sempre più palpabile, crediamo ancora che l'accelerazione sia un vantaggio. Non è vero, non è vero. Se noi interrompiamo l'accelerazione ci accorgiamo che nella normalità c'è il vero straordinario. Se noi torneremo a godere del poco, è perché quel poco è il meglio.